Questa è la settimana dedicata alla Grecia, sia perché ormai stiamo per prenotare le vacanze, sarebbe un bel gesto di solidarietà cominciare a fare un tuffo nel nostro Mediterraneo, sia perché si fa da mesi un grande parlare, il debito greco, il default greco, i greci non pagano i debiti. Qui c'è tutta una lunga storia, per farla molto breve c'era un sistema in cui la Francia e la Germania prestavano i soldi ai greci a patto che questi comprassero armamenti. La Grecia ha comprato 8 sottomarini dalla Germania con questi soldi che adesso costituiscono il debito, a condizione che comprassero armi e comprassero da loro. La Grecia ha circa speso l'8% del PIL suo in armamenti, quando l'Italia nei momenti più drammatici ha speso l'1,3 e mezzo. Questo vi dà subito la dimensione che sotto c'è un'opera non moralissima di prestiti a un paese condizionandolo a degli acquisti, approfittando di una classe dirigente corrotta, corrottissima. Il ministro della difesa greco è stato condannato a 20 anni di galera e sua moglie a 8, quindi non si può dire che i greci non stiano facendo pulizia a casa loro e prima o poi dovrà capitare anche qui. Ora non parliamo di queste questioni populistiche, i ladri paghi, le lasciamo dire agli altri, le dicono tutti. Noi cerchiamo di andare al sodo. Per il momento tutti i giornali in coro escludono che i debiti non si possano pagare e questo già non è vero. Ho fatto una piccola ricerchetta e ho trovato un progetto già pronto che permette la ristrutturazione del debito. Il progetto si chiama PADRE, sembra una parola italiana, invece è un acronimo di un termine inglese che significa Politically Acceptable Restructuring of Debt in Eurozone, PADRE. Questo progetto PADRE ha studiato già un paio d'anni fa come fare a ristrutturare dei debiti nell'eurozona, perché poi la Grecia non è l'unica a essere indebitata. E hanno fatto anche una sorta di background, cioè di un retroscena storico. Questo retroscena storico è molto interessante. Anzitutto dal 1820 al 2012, cioè in 192 anni, abbiamo avuto nel mondo 251 fallimenti di stati sovrani, i default cosiddetti. Quindi non è questa cosa da stracciarsi le vesti. Può succedere. In più, dalla seconda guerra mondiale in poi, ci sono state 425 ristrutturazioni del debito, in cui il paese, senza andare in default, come si dice, cioè in fallimento, ha comunque rinegoziato con i propri creditori. Ripeto, 425 volte dalla seconda guerra mondiale in poi. Quindi il vero problema è non quello di rinegoziare un debito o addirittura accettare un default, visto che negli ultimi 200 anni ce n'è stato più di uno all'anno, ma il vero problema consiste nel fatto che c'è qualcuno che non ci vuole stare, non vuole perdere i soldi che ha prestato a strozzo, diciamocelo pure, per l'acquisto di armi che conveniva loro, perché naturalmente un cantiere navale se fa 8 sottomarini, il 9, il nono sottomarino che compra il paese che ha il cantiere viene a costare molto di meno perché diventa una produzione industriale. Quindi l'hanno fatto nel loro interesse, ci hanno guadagnato sui quattrini e adesso non vogliono nemmeno fare uno sconto a un paese che da 5 anni soffre in maniera terribile con il numero dei suicidi, da noi si sono suicidati moltissimi imprenditori e anche qualche operaio, come detto, qualche persona indebitata. Da loro quasi unicamente si sono suicidati dei cittadini normali privati della pensione, privati dei mezzi di sussistenza minimi per sopravvivere, perché poi anche il più ricco dei greci vive come un borghese medio in Italia e come una cattona in America, perché poi bisogna fare anche la scaletta. Quindi ricordatevi questo numero, 425 volte sono stati fatte ristrutturazioni di debiti che adesso negano alla Grecia e hanno creato allarme in tutta Europa, hanno creato tutti i motivi di risentimento verso i greci. Un giornalista che prima stimavo Turani ha persino insolentito i greci, ha cominciato a ritirare fuori il termine Levantini in maniera negativa, quindi creano le categorie. Adesso è proibito farlo sugli ebrei, ma su tutti gli altri vedete che lo fanno. Questa situazione greca si risolve con i criteri suggeriti da due studiosi che sono il signor Paris, Pierre Paris, e il signor Charles Whiplos, un polacco, i quali sono specialisti. Il signor Paris è un banchiere d'affari di Parigi e il signor Charles Whiplos è dell'ICMB, l'International Center for Monetary Banking, che si trova a Ginevra e che ha tra i propri soci persino importanti istituti britannici. Come si fa? La BCE o qualsiasi altro ente di questo genere può comprare la parte di debito che si vuole abbonare alla Grecia e in contropartita, questo è un termine che i ragionieri amano utilizzare, in contropartita possono emettere delle obbligazioni a 30 o a 50 anni con zero interessi. Questo tiene in equilibrio il bilancio di questa istituzione. L'intero PIL della Grecia vale il 2% del PIL dell'Unione Europea. Cosa significa questo? Significa che immaginando l'Unione Europea come una famiglia, se l'Unione Europea stringe la cinghia per il 2% non soltanto possiamo pagare il debito greco, ma possiamo prendere l'intera Grecia e la possiamo comprare. A noi cittadini dell'Unione Europea hanno chiesto sacrifici molto maggiori. In Italia credo che forse il più ricco ha avuto un restringimento del suo treno di vita del 2%, gli altri hanno perso parecchio di più, il 10, il 20, senza contare i casi estremi. Quindi resta da capire come mai questi signori ce l'hanno tanto con la Grecia? Non è che ce l'hanno tanto con la Grecia, il vero problema è a monte, come si diceva un tempo. La Germania dal momento in cui si è riunificata con la Germania Est è diventata troppo forte, troppo potente per poter rimanere dentro l'Unione Europea. Il vero problema non consiste nel cacciare la Grecia dall'Euro, dal cacciare la Germania, questo riequilibrerebbe l'economia di tutti i paesi aderenti. Il giorno 30 di giugno c'è la scadenza della prima rata dovuta al Fondo Monetario Internazionale, 1 miliardo e 8 di Euro e il 20 luglio scade invece una tranche più grande di 3 miliardi e 8 per la Banca Centrale Europea. Da queste due scadenze e dalle decisioni che verranno prese fino al 30 giugno dipende la sorte di 10 milioni di cittadini europei che hanno già pagato con 5 anni di pene gli errori della classe dirigente di cui si sono sbarazzati. Arrivederci.